Ad Antonio Pascale il premio Chiara 2022, a Elisa Albé il concorso giovani. Quest'anno l'edizione del festival, capitanato dagli inossidabili bambi lazzati Romano Oldrini, riconosce il valore della natura e del viaggio, della ricerca dentro di sé prima che intorno e numeri alla mano, come confermato dallo scrutinio live della notaria Nicoletta Borghi, impone il trionfo dello scrittore napoletano, autore della Foglia di Fico, dichiarazione ad amore agli alberi, che osservano, combattono, vincono, perdono, soffrono, amano e discretamente ci accompagnano. Ma sai, le piante sono organismi che mettono in comunicazione terra e cielo, lo fanno davvero, nel senso che assorbono acqua e sostanze inuditive con le radici, portano tutto verso la chioma, poi entra l'anidride carbonica e grazie al sole avviene la reazione fotosintetica e si produce amido per la pianta e anche per noi acqua e ossigeno, quindi noi siamo proprio figli delle piante, non delle stelle come cantava la sorgente, ma delle piante e dunque siamo legati alle piante e anche noi cerchiamo di descrivere un arco che va da terra del cielo, non che noi puntiamo i piedi per terra per guardare il cielo, solo che il nostro arco è debole, si spezza, è fragile e quindi ho usato le piante, i simboli che loro contengono per descrivere proprio la fragilità del nostro arco umano che tuttavia è fragile ma ci rende umane appunto. Alle sue spalle ma ben distanziati Michele Mari e Alessandra Sarchi che intervistati dal giornalista Andrea Kerbacher hanno descritto genesi e sviluppo delle loro raccolte. Premio inediti a Camilla Gamberini che sarà pubblicata da Pietro Macchione. Tra i giovani la ventenne di Gorla Maggiore si è imposta grazie al racconto 10.000 miglia mentre il premio Reggio Insubri che è stato assegnato alla sedicenne Brianzola Vera Carucci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti